Siamo tornati di nuovo insieme a Videotop, parliamo ancora una volta di teatro, ma attenzione anteprima nuova stagione 2013-2014 e sono certo questo sarà un grande successo. Stiamo parlando di Ghost Hill Musical, si tratta della nuova importante produzione per la prossima stagione firmata Mass Music Arts & Show. Ghost debuterà a Milano al Teatro Nazionale il prossimo 10 ottobre e sarà in scena fino a fine anno. Lo spettacolo poi toccherà le città di Roma, Trieste. Il musical, come avrete immaginato, è tratto dall'omonimo film di grandissimo successo. Ghost, fantasma nella memoria di tutti, la travolgente simpatia di Whoopi Goldberg e la storia d'amore tra Patrick Sveitze e Demi Moore, celebrata da quel momento imperdibile di vaso d'argilla. e allora alcune immagini per l'appuntamento con Ghost, il musical. ... ... ... ... ... Grazie a tutti.